Questa mattina la centrale operativa con i vigili del fuoco, carabinieri e polizia si è spostata addietro al comune di Maserada e da qui sono scattate le ricerche di Filippo e Giulia. L'auto del 22enne è passata in questo comune domenica sera. Nulla viene tralasciato, si continua a seguire il percorso del giovane, chilometro per chilometro. In questa cartina le zone battute palmo a palmo. Per tutta la giornata operatori a piedi, a bordo di mezzi, hanno setacciato anche le aree più impervie. 23 persone divise in squadre, fra le quali una fluviale con i gommoni e unità cinofile. Stiamo attendo la zona che vede l'attraversamento della vettura nel comune di Maserada per poi spostarsi verso Cimadolmo. Abbiamo l'ausilio di TAS che è praticamente un'unità che ci permette di mappare e di verificare se ci sono tracce del passaggio dell'autovettura. Il Piave è il fiume attenzionato. Qui la mattina si sono concentrate maggiormente le ricerche. Questa è la strada percorsa da Filippo. Noi stiamo in pratica registrando attraverso le squadre che stanno facendo queste verifiche a terra su un dispositivo GPS per poi metterlo in cartografia per rendere ufficiale il passaggio e determinare se può esserci qualche elemento utile per il trovamento di qualcosa che può essere utile ai fini della ricerca. In quest'area verde gli agenti di polizia a piedi hanno perlustrato l'intera zona passando più volte alla ricerca anche di un solo piccolo indizio. Il fiato sospeso di tutti gli operatori che senza tregua hanno perlustrato controllato sperando di poter dare un aiuto valido a far trovare i due ragazzi. I giorni passano e l'angoscia sale. Con il calare della luce si sono fermate le ricerche. Le zone che sono maggiormente controllate vanno però oltre i confini della provincia di Treviso.